Francesco Castellana, torna a Gela, fa jazz, una rassegna musicale, questa volta tutta al femminile. Sì, quest'anno il tema è predominante, quindi il denominatore comune della rassegna fa jazz è proprio le donne del jazz. Infatti la rassegna è intitolata The Lady is a Trump, per far riferimento e prende spunto da un famoso brano di jazz del 1939 interpretato da diversi jazzisti, da diversi cantanti del jazz come Frank Sinatra fino ad arrivare a Tony Bennett con Lady Gaga. Quindi in realtà il tema principale che è stato scelto è proprio quello delle donne, che è un tema esaltato in tutti i circuiti, in tutti i festival internazionali di jazz e anche noi quindi in linea con questo tema abbiamo deciso di affidare il cartellone della rassegna a tutte le donne del jazz. Quando si comincerà e come saranno articolate le serate e dove i cittadini potranno venirvi ad ascoltare? Allora, la rassegna intanto si sviluppa come location a Macchitella sotto i portici e da questo punto di vista ne approfitto specificando e ringraziando il finanziatore della rassegna stessa medesima che è il signor Francesco Castarino che è il titolare della pasticceria Peccato di Gola che ha espresso, ha manifestato una sensibilità oltremisura finanziando totalmente la rassegna. In questo ho trovato ovviamente riscontro nella mia azione di organizzatore e quindi in una settimana abbiamo messo sul cartellone. Ovviamente tutta la rassegna è gratuita nel senso che chiunque potrà venire potrà anche insomma prenotare i tavolini, i tavoli del bar e quindi ascoltare questa buona musica. E quando si comincerà? Gli appuntamenti se vuoi ricordare? Allora sì, si comincia domani il 24, la rassegna è costituita da cinque appuntamenti cadenzati ogni settimana, ogni mercoledì. Quindi cominciamo domani che è il 24, quindi poi avremo il 31, il 7, il 14 e il 21 settembre. Domani cominciamo con una cantante jazz strepitosa, originaria di Palermo ma che ormai vive da anni a New York assolutamente inserita in tutti i circuiti new yorkesi ma americani del Centro America molto importanti in termini di festival o di concorsi canori jazz e avremo questa splendida cantante che appunto si chiama Laura Campisi poi continueremo con Anna Salsetta, continueremo con Anna Bonomolo con un'altra gelese che è Glenda Scolaro e finiremo poi con Evelyn Leone. Cinque appuntamenti allo stesso orario, ogni mercoledì alle 21? Ore 21 sì, saremo lì e aspetteremo tutta la città insomma in modo da poterci confrontare e allietare insomma con una buona musica.